Il curatore inviato da Mirabelli e Fassone per pareggiare la stessa offerta che aveva fatto Abramo. Conte è il migliore allenatore in circolazione. Però se tu sei contento del tuo, il Bayer di Monaco non ha mandato... Ma non mi interessa, io mi accontento di quello che passa il convento, poi giudicherò. Aspetto a giudicare. Ma io ti ho sentito attaccare Montella tutto il girone di ritorno. Io ho criticato Montella. Tutto il girone di ritorno. Ma non si può parlare? Si mette a urlare? Tutto il girone di ritorno. Perché è grande e grosso si mette a parlare. Invece te parli a bassa voce. Ma io parlo a bassa voce. Io l'ho criticato Montella. L'ho elogio. Sei contento? Sei contento di aver venuto Montella? Sono 3 milioni di ritorno a meggiore. Sei contento? Sono 3 milioni di ritorno. Vero Franco che davi ragione a Massimo in questa contesa? Che cosa davo a dire? Sì perché... Grande Franco! Siete due pirula! Diceva delle cose giuste. Lui gira le frittate. Non giro le frittate. Non giro le frittate. Perché io sono qui tutte le sere o quasi... A girare le frittate. E mi espongo in prima persona. Io non ho detto stasera come nelle altre sere il Milan vincerà. Ho detto che sono curioso di vedere il rendimento che avrà con Montella e con i buoni giocatori. Punto. Io non ho ancora capito.